Michi ha il suo percorso pedonale sicuro. Sono infatti terminati nei giorni scorsi i lavori che hanno permesso di realizzare il nuovo percorso pedonale in sicurezza nella località del comune di Alto Pascio al confine con Chiesino Zanese. Un intervento voluto dall'amministrazione comunale per dotare il centro abitato, fino a oggi sprovvisto di marciapiede, di un'opera che possa garantire la fruibilità pedonale e la sicurezza dei cittadini di via del ponte alla ciliegia. Per farlo il comune ha partecipato al bando della regione toscana dedicato alla sicurezza stradale e ha ottenuto 47.500 euro. La parte restante per arrivare alla cifra necessaria di oltre 100.000 euro è stata stanziata dall'amministrazione comunale. Dopo la realizzazione della rotatoria carbonata a Badia Pozzeveri questo è il secondo intervento finanziato in copartecipazione tra la regione toscana e il comune di Alto Pascio. Sono circa 100.000 euro di intervento che mettono fine a un problema annoso che era quello della realizzazione dei marciapiedi in questa zona, al confine, con Chiesina Ozzanese, quindi una zona lontana dal centro, una zona non per questo che deve essere dimenticata. Sempre in località Michi, inoltre, il comune ha avviato un percorso con Enel per l'interramento delle linee elettriche.